E' arrivato nella giornata di ieri dalla Turchia il feretro di Alessandro Angelucci, il giovane docente universitario morto a causa di una caduta di 50 metri, nel corso di un'escursione nel distretto di Carasu. Secondo la ricostruzione, le scarpe bagnate dall'attraversamento di un fiume sarebbero state la causa della tragedia. Il manto roccioso sul quale stava camminando Alessandro sarebbe stato fatale. Un giovane ricercatore originario di Lanciano è residente a Pescara che solo lo scorso anno aveva già ottenuto il primo incarico ufficiale all'università con una cattedra al master di prime a livello di teoria e pratica di teatro e musica di lingue e letterature straniere. L'incidente è avvenuto il 30 maggio e lunga è stata l'attesa dei suoi cari per vederlo ancora un'ultima volta. Tutta la città si è stretta intorno alla famiglia di Alessandro e da ieri sera è stata disposta una camera ardente al Media Museum di Pescara dove tantissime persone gli hanno reso omaggio. La cattedrale di San Cetteo è stata la chiesa scelta per la celebrazione dei funerali. Ancora tanto sgomento e incredulità da parte della sua famiglia e dei suoi amici che lo ricordano per la sua dedizione al lavoro, la maturità che lo ha sempre contraddistinto e l'eredità che lascia dolorosamente i suoi cari e quella della sua gloria. La sepoltura verrà ad Ancona dove vive la sorella Giovanna e dove si trasferirà anche la mamma di Alessandro rimasta sola dopo la scomparsa del figlio.